Buonasera a tutte e a tutti, con questa nostra iniziativa oggi vogliamo aprire il discorso sulle conseguenze che la crisi sanitaria o più ancora la gestione economica che se ne sta facendo, ha avuto e sta avendo sulla vita delle donne ed è importante parlarne perché nel periodo del lockdown e ora nella fase 2 si sono aggravate molte delle difficoltà materiali e delle contraddizioni che gravano sulla vita delle donne. Innanzitutto recluse in casa le donne hanno dovuto fare i conti con le forme storicamente sedimentate di dominazione e di violenza, il lavoro di cura, quel lavoro che il retaggio patriarcale attribuisce come funzione naturale alle donne e il sistema capitalistico utilizza, appropriandosene senza riconoscerlo come lavoro. Questo lavoro che lo smantellamento dei servizi in nome dell'austerità aveva già appesantito si è accresciuto per la chiusura delle scuole e degli asili. Molte donne poi si sono trovate senza difese di fronte a quella violenza di genere che si consuma nascosta nelle pareti domestiche, che fa più di 100 femminicidi all'anno e molte migliaia di dedunce per altre forme di violenza. In questo periodo c'è stata la difficoltà anche a chiedere aiuto all'esterno. Le lavoratrici del mercato formale poi a questi problemi hanno sommato quelli del lavoro esterno. Noi abbiamo due settori di produzioni economiche, la produzione dei beni e dei mezzi che servono per vivere e le attività che servono alla vita, che possiamo chiamare riproduzione. Ultimamente è entrato nell'uso il termine di attività essenziali, quelle che non si sono potute fermare, mentre gli altri rami di attività erano bloccati, salvo le numerose deroghe che sono state permesse al padronato. L'occupazione femminile è concentrata in molte delle attività essenziali, nella sanità per esempio, dove il 70% del personale infermieristico è formato da donne, le pulizie, la sanificazione che sono quasi totale appannaggio delle donne spesso immigrate, la grande distribuzione. Ci sono anche altri settori strategici come la produzione alimentare, i trasporti, ma nei settori e nelle aree in cui le donne sono in maggioranza il lavoro è pagato meno ed è più precario. Le attività sono state oggetto in passato di pesanti tagli nelle politiche di austerità. La crisi ha mostrato che queste attività hanno una funzione centrale nella società perché riproducono le basi materiali dell'esistenza, eppure nella considerazione generale vengono messe in secondo piano rispetto al lavoro che produce direttamente profitto. Di che cosa si sta parlando oggi sulla scena politica? Di industria 4.0, di innovazioni tecnologiche? Non si dice niente sul rilancio della sanità o sullo sviluppo dei cosiddetti servizi essenziali? Dunque la risposta capitalistica alla crisi segue la stessa logica in tutto il mondo, anteporre i profitti alla nostra vita, ma in questi servizi sono impegnate in prima fila le donne, dentro e fuori casa. Ora si sta pensando di ricacciarle in casa con il stelelavoro, che si è enormemente dilatato e così si annullano dei passi in avanti che avevamo fatto nella conquista dello spazio sociale. D'altra parte molte altre occasioni lavorative precarie, in quelle che chiamiamo sommerso, sono scomparse, gettando le donne nella disoccupazione. Spesso si tratta di immigrate, le più vulnerabili, ma comunque molte donne stanno sprofondando nella disoccupazione e nella povertà e nel ritorno senza difese alla subordinazione familiare. Ma su questo diranno di più le compagne che abbiamo invitato a contribuire alla discussione e al confronto. Sono compagne che per motivi professionali o per la loro militanza conoscono ciascuna uno spaccato significativo di questa situazione complessiva. Con loro parleremo di violenza di genere e di lavoro delle donne, con un'attenzione specifica al lavoro delle insegnanti e al lavoro precario femminile. Io rivolgerò a loro due domande a testa, non più di due nel poco tempo che abbiamo a disposizione, però anche chi ci segue può inviare sulla pagina Facebook una domanda per qualcuna di loro. Ora mi resta da dire che se parliamo di queste cose stasera non è per farne un documento sociologico, ma perché vogliamo risposte di lotta, vogliamo essere al fianco delle donne che si organizzano per difendere la loro condizione in una battaglia che per noi si incrocia con quella di tutti gli sfruttati e gli oppressi contro un sistema economico-sociale che da tempo porta nel mondo solo crisi, diseguaglianza, la povertà, la guerra e ora ce ne siamo accorti anche malattie legate alla devastazione selvaggia dell'ambiente. Dunque do la parola alla compagna militante del centro Donna Lisa, Valentina Mangiò, che sostituisce Tania Latella che in un primo tempo avevamo invitato, ma che ha avuto un contrattempo all'ultimo momento. Valentina, anche lei è una militante del centro Donna Lisa, che è un centro femminista romano, centro antiviolenza, gestito dall'associazione Donne in Genere, fa parte della rete Dire, Donne in rete contro la violenza sulle donne, che è la rete dei centri che combatte la violenza sulle donne in tutte le regioni italiane. Il centro Donna Lisa ha un'esperienza ultraventennale sul terreno della violenza di genere, quindi direi che possiamo ascoltare Valentina. Valentina, prima della crisi sanitaria i media riportavano con terribile frequenza notizie di femminicidi, di abusi e di varie forme di violenza di genere. Nella fase dell'isolamento domestico era prevedibile che i casi di violenza di genere aumentassero. Come è andata per le donne? Che cosa avete potuto constatare direttamente? Buonasera a tutte e a tutti e grazie per questo momento di confronto circolare che ci consente di scambiare le diverse esperienze che abbiamo fatto in questo periodo difficile per tutti. Durante il periodo del lockdown e dell'isolamento sì che era prevedibile una recrudescenza della violenza, perché se siamo rimasti spaisati rispetto alla pandemia che ha investito tutto il mondo in maniera così violenta, l'esperienza, anche quella recente di chi aveva sperimentato prima di noi un isolamento così serrato, penso alla Cina, ci aveva dimostrato che la violenza domestica non attregua, non conosce stop, anzi in un momento in cui la donna è maggiormente isolata, gli episodi si intensificano e l'isolamento e il lockdown sono solo fattori di rischio che sono aggiunti a situazioni preesistenti, a situazioni che si protraggono nel tempo e che sono diventati in alcuni casi purtroppo epiloghi drammatici. Pensiamo che nelle 11 settimane di lockdown in Italia vi sono stati 11 femminicidi, che non sono stati certo il frutto della pandemia, come ben sappiamo, ma che sono stati il frutto dell'isolamento totale nel quale si sono trovate donne impossibilitate a chiedere aiuto, infatti sappiamo che la violenza domestica si caratterizza per quell'eccessivo controllo, dominio e isolamento esercitato dal soggetto maltrattante nei confronti della partner e in un contesto come questo alle donne è stato difficile ritagliarsi anche solo 5 minuti per fare una telefonata con una richiesta d'aiuto. I centri antiviolenza nella prima fase delle misure più drastiche e più rigide hanno assistito a una diminuzione drastica, drammatica delle richieste d'aiuto e delle chiamate. Ovviamente non diminuiva la violenza, ma diminuiva solo la possibilità di chiedere aiuto da parte delle donne. In questo momento, come dicevi tu, i titoli non hanno occupato più, i titoli di episodi di violenza e di femminicidio non hanno più occupato le prime pagine, ma sono declassati a piccoli trafiletti in fondo alle pagine dei giornali. Raccontavano storie di donne morte nell'isolamento totale, donne che non erano potute andare via di casa non solo per le rigide misure, ma anche perché non avevano più una rete familiare, amicale e neanche a cui affidare i bambini, spesso minori. I centri antiviolenza in questo periodo hanno continuato a lavorare anche se con altre modalità. Man mano che passavano i giorni una forte campagna di comunicazione da parte dell'1522 della rete nazionale dei centri antiviolenza, ricordato alle donne che i centri c'erano, che stavano continuando a lavorare e nella seconda fase delle misure restrittive abbiamo assistito a un aumento, anche complice questa forte campagna di comunicazione, a un aumento delle richieste di aiuto addirittura del 74%, se confrontate con l'ultimo censimento del 2018. Queste richieste di aiuto sono state prese in considerazione, sono state accolte dai certi antiviolenza spesso con modalità diverse, non con le modalità tipiche del centro antiviolenza che si basano sul confronto, sulla relazione tra donne vis-à-vis, su quella relazione che si basa sulla fiducia e che assicura alla donna un rispetto della privacy e dell'anonimato totale, ma per venire incontro a queste nuove esigenze, a questo contesto mutato si è fatto sempre più ricorsa su strumenti diversi, quali le chat su Facebook, perché forse le donne spesso chiuse in casa con il loro carnefice potevano ritagliarsi solo un piccolo momento per mandare un messaggio su Messenger o su un altro social. Anche questo costituisce un rischio, perché come sappiamo le donne spesso sono costrette a cedere al loro partner controllante la password di Facebook o di Instagram o di un altro social. Nonostante questo si è fatto fronte a tutte le richieste d'aiuto e si è cercato di sopperire anche all'assenza di indicazioni da parte dello Stato e del governo circa protocolli da attuare o posti letto da dover cercare e trovare, perché purtroppo un problema che si è dovuto affrontare nella fase dell'emergenza è quello dei posti letto nelle case rifugio, che come sappiamo sono pochissimi in Italia, già in periodo non emergenziale e purtroppo in questo l'Italia è ancora lontana dall'applicazione completa e totale delle raccomandazioni della Convenzione di Istanbul e ha poco più di 600 posti nelle case rifugio, quindi ne mancano l'87%, perché la Convenzione prescrive l'obbligo di un posto letto ogni 10 mila abitanti. Questo ha influito tantissimo sulla impossibilità di aiutare concretamente le donne. Le misure sono come al solito da parte dello Stato emergenziali, perché il fenomeno, come ben sappiamo, della violenza di genere non è un fenomeno, non è un'emergenza, ma è un fenomeno strutturale connaturato alla nostra società e dovrebbe essere trattato come tale, con politiche strutturali che intervengano in maniera globale, invece la legislazione emergenziale purtroppo lascia pochi spazi applicativi e quindi si è creato e si è ingenerato molta confusione e molto caos, per cui in alcuni territori le circolari hanno funzionato, in altri meno e ovviamente il prezzo più grosso l'hanno pagato le donne che si sono ritrovate in possibilità a lasciare la loro casa per mettersi in salvo. In questa fase le richieste di aiuto stanno continuando quasi con un trend costante e consideriamo che la maggior parte delle telefonate che ricevono in scienza e in sicurezza arrivano nella fascia oraria tra le 9 e le 17 del pomeriggio. Questo ci dice molto, è un indicatore molto importante, è il momento in cui spesso le donne sono sole in casa o sono fuori casa per lavoro. Questa fase di transizione e anche di passaggio allo smart working ha rivoluzionato anche il modo di rivolgersi ai centri antiviolenza, di chiedere aiuto, di programmare un percorso di autonomia e di concordarlo in maniera efficace. È per questo che in una prospettiva futura non si può che auspicare interventi che non siano solamente enunciazioni e proclami che rimangono lì, enunciazioni di stanziamento di fondi, ma che ci sia un impegno strutturale che rafforzi, che incida proprio sul cambiamento culturale di trasformazione della società, per erodere veramente quelle radici della violenza di genere che nascono, come dicevi tu, sul terreno della storica e ancora molto attuale disparità di potere tra uomini e donne. E quindi attraverso l'intensificazione di attività di prevenzione, sensibilizzazione, educazione e formazione, iniziando dal linguaggio che è ancora troppo sessista, che declina al maschile neutralizzando e appiattendo tutto è attraverso un'educazione alle differenze. Anche senz'altro attraverso il riconoscimento e rafforzamento dei centri antiviolenza che svolgono un importantissimo lavoro che è quello di accompagnare le donne a un percorso di autonomia. È in questa fase in cui si profila una profonda crisi economica, il rafforzamento dei centri deve essere ancora più efficace, ancora più forte e le politiche devono avere come oggetto, senza altro devono mettere al centro delle scelte soprattutto future economiche la donna, perché solo rafforzandole economicamente la si può accompagnare verso un percorso di autonomia. Valentina, ti ringrazio perché hai risposto molto ampiamente a questa domanda. In realtà non ho avuto bisogno di chiederti una cosa che avevo in mente, cioè come le istituzioni fronteggiano la violenza di genere e come invece il movimento femminista chiede cose diverse per sostenere la possibilità delle donne di uscire da una relazione violenta. Ma ci hai detto già molte cose, se vuoi aggiungere qualcosa di breve su questo, perché il tempo a disposizione è poco, ci puoi semmai chiarire meglio quali sono le misure che fin'oggi sono state prese da parte delle istituzioni e che cosa invece chiedete voi di diverso per poter adempiere alla vostra pratica di sostegno delle donne? Quello che desideriamo è che la donna venga messa al centro, che venga creduta, che non debba più difendersi in tribunale, che non debba dimostrare di essere una brava madre e che le norme che nell'ultimo anno, penso al codice rosso, penso tantissime altre norme sono state emanate, quindi il nostro paese si è dotato di una struttura normativa efficace e vengano attuate in maniera costruttiva, omogenea su tutto il territorio nazionale, però che al centro ci sia la donna. Grazie Valentina, ci salutiamo, passiamo la parola ad Eliana, Eliana Como è la portavoce di Conquistiamo Tutto, area di opposizione interna alla CGL, ciao Eliana, buonasera, io vorrei chiederti, durante la fase dell'emergenza diversi settori della produzione economica sono rimasti fermi, mentre un gran numero di lavoratrici, come dicevo prima, ha tenuto in piedi le attività essenziali, a partire dal settore sanitario, ma anche nel settore delle pulizie, della distribuzione commerciale, eccetera, ma qual è la condizione lavorativa delle donne che lavorano in questi settori? Allora sì, intanto compagno permettetemi due cose, allora intanto la gioia di vedervi anche se così, sia io sia la mia pupazzina, non vedo l'ora di riabbracciarvi tutte e tutti e lo dico per dire una cosa, prima di tutto, poi vengo al tema, noi abbiamo fatto di necessità virtù, ovviamente abituandoci a questi mezzi, a fare le riunioni da remoto, eccetera, però vi prego non abituiamoci mai, perché sospetto che forse qualche maschio sarebbe anche soddisfatto di abituarsi a questo modo di fare politica, però proprio noi compagni e vi prego rivendichiamo che la politica è soprattutto relazione, scambio, gioia, dolore, abbracciarsi, anche litigare se serve, ma il prima possibile spero che potremo farlo di persona, quindi ovviamente abbiamo fatto, dobbiamo ancora fare un po' di necessità virtù, ma penso che questo sia, ci tenevo a dirlo, cerchiamo di ritornare il prima possibile ai nostri modi di fare politica. E poi un'altra cosa, e poi vengo al tema, ma ci tenevo a dirlo, oddio ma che mesi che abbiamo passato, altro che crisi di nervi, come allude il titolo di questa iniziativa, lo dico scusatemi perché per me è importantissimo, io non lo so, prima di parlare di qualsiasi altra cosa, io non lo so, giuro quando riuscirò a togliermi di dosso tutto lo stress di questi mesi. Sono a Roma per due giorni, domani ritorno a Bergamo, ma credetemi, stando qui a Roma non sentivo più il suono dell'ambulanza che in questi mesi a Bergamo mi ha ossessionato e guardate è stata una cosa veramente terribile e lo dico perché è stato davvero un inferno, poi uso il passato e non so se posso usare il passato perché in realtà ho ancora paura, lo dico perché rivendichiamo anche questo, solo gli sciocchi non hanno paura, la paura è un, come dire, la dico così, noi abbiamo perso l'8 marzo, abbiamo perso il 25 aprile, abbiamo perso il primo maggio, per vedere poi il 2 giugno ammassati in piazza senza mascherina i fascisti e però guardate certo rivendichiamolo però il fatto che noi abbiamo avuto paura ma abbiamo avuto anche rispetto della salute e della vita di tutti, rivendichiamo anche la crisi di nervi per capirci perché non toglie niente alla nostra determinazione, il coraggio non è non avere paura ma affrontarla la paura con intelligenza, lo dico perché per me anche questo è molto femminista, il avanti tutta, avanti con coraggio, mola mia in bergamasco, è anche molto maschista, rivendichiamo la nostra crisi di nervi, bellissimo il titolo di questa iniziativa. Allora scusate mi vengo al punto, che cosa è successo in questi mesi nel mercato del lavoro? Allora guardate io metto da parte per un momento un tema che però per me è fondamentale, cioè il fatto di come le attività manifatturiere durante l'emergenza non si sono mai fermate del tutto, lo sapete per me la non chiusura delle fabbriche in Val Seriano è stata una delle cause dell'esplosione, del mancato controllo soprattutto della crisi, quindi però lo metto da parte per un attimo, perché quali sono state invece le attività che di fatto a parte il manifatturiero che le imprese non volevano chiudere, ma quali sono state le attività lavorative che hanno fatto il sacrificio maggiore? E' quelle essenziali appunto, cioè quelle che non potevano fermarsi perché se si fossero fermate andava a picco il paese e appunto le citavo a Giovanni alla sanità, il settore alimentare, sia la produzione alimentare che la distribuzione alimentare, le pulizie, gli appalti in generale, tutti i servizi, in gran parte dei servizi pubblici, pensate per esempio anche alle poste, tutti servizi che, come dire, gran parte del lavoro di cura, ok? Che è quello normalmente meno pagato, è normalmente quello più precario, perché normalmente si pensa che non è quello che produce valore e invece abbiamo scoperto che è proprio quello essenziale, non lo so quanto profitto produce, produce anche profitto, ma sicuramente è quello senza il quale il paese sferma. Allora si può stare due settimane, un mese senza produrre automobili, si può stare un mese senza costruire ponti, viva Dio, ma non si può stare nemmeno un giorno senza i servizi essenziali, senza un supermercato, senza un ospedale. Allora il lavoro produttivo può fermarsi, quello riproduttivo non può fermarsi in ogni caso e sono proprio i settori meno pagati e più femminilizzati, guarda caso. Allora in tutta questa vicenda si è parlato spesso di eroi, a me per il ragionamento che facevo prima sul macismo, il coraggio, a me sicuramente non piace la definizione di eroi, ma in ogni caso sarebbe stata impropria, perché bisognava prima di tutto parlare di eroine al limite, perché la maggior parte dei servizi che hanno dovuto continuare a lavorare sono largamente femminilizzati, lo dimostra tra l'altro anche il dato che ha fornito l'INA sul numero di infortuni sul lavoro nel periodo da Covid, che sono stati largamente più donne che non uomini, perché erano più donne al lavoro nei servizi essenziali. E guardate, diciamolo quindi, già dirle un fatto importante, cioè l'emergenza di questa fase si è scaricata in larghissima parte sulle lavoratrici, che spesso tra l'altro hanno continuato a lavorare in condizioni allucinanti, turni massacranti, mancanza di mezzi di protezione individuale, persino negli ospedali, aumento della fatica in generale, con il rischio tra l'altro di ammalarsi e di contagiare i propri cari, ancora più insidioso. Pensate a che cosa è successo, la strage che è accaduta nelle RSA, quante lavoratrici, anche oltre al dramma degli ospiti delle RSA, quante lavoratrici, soprattutto donne, lavorano in quei settori nelle RSA malpagate, iperprecarie, in appalti, subappalti, eccetera. Donne che nel frattempo, lavoratrici che nel frattempo avevano i figli a casa, senza i nonni, perché non li potevano portare dai nonni, senza la scuola o al limite con quella disgrazia che è stata la didattica a distanza. Allora, diciamola questa cosa. Diciamola perché? Perché ora abbiamo un problema davanti enorme. E cioè che dopo aver parlato di eroi, impropriamente, nemmeno di eroine, ma comunque dopo aver parlato di eroi, adesso Confindustria, che in realtà per tutta l'emergenza è stata feroce, senza scrupoli, come mai prima, e ora batte pure cassa. Batte pure cassa perché per Confindustria è ora l'ora dei sacrifici. Quindi se pensavamo illusoriamente che finalmente si era capito qual è il lavoro essenziale, se pensavamo che in questo prezzo di lavoro, soprattutto in quello riproduttivo, riuscissimo ad alzare i salari, abbassare gli orari, ridurre la precarietà, migliorare le condizioni, ecco scordatevelo perché secondo loro signori di Confindustria ora è tempo dei sacrifici. Come se fino adesso non fossimo stati proprio noi a fare i sacrifici. E ripeto perché è importante che ce lo diciamo, sono state soprattutto donne, soprattutto lavoratrici e sono sempre e soprattutto donne quelle che ora rischiano di più un posto di lavoro. Basta vedere i dati sulla disoccupazione che sono usciti due giorni fa, per cui la disoccupazione sta aumentando, sta aumentando per tutti perché pagheremo il costo di quello che è successo, ma soprattutto tra le donne, cioè quelle a cui prima invece è stato fatto, chiesto quello sforzo lì. Allora noi secondo me dobbiamo lanciare una grande campagna politica, culturale, ma io aggiungo persino morale, contro l'aggressione di Confindustria, per rivendicare e pretendere il valore del lavoro, salario, orari, diritti, sicurezza, a partire proprio da ciò che è essenziale, che è proprio il lavoro riproduttivo, cioè soprattutto il lavoro delle donne. E questo non può che partire da una campagna di investimenti pubblici, sui servizi, sulla sanità certo, sull'RSA, sugli asili, sulla scuola. Queste sono le vere grandi opere che servono, altro che ponti, piuttosto che autostrade. Il trend però è esattamente il contrario, il decreto rilancio, guarda caso, poi penso che lo diremo meglio dopo, ma non metti i soldi sulla scuola, quindi a settembre che Dio ce la mandi buona col virus, perché altrimenti ricominciamo con la didattica a distanza, che è anche aumento delle disuguaglianze, cosa che deve riguardarci tutti. Si taglia l'IRAP, guarda caso, cioè è proprio quella che finanzia il servizio sanitario pubblico e addirittura sono riusciti a ritirare fuori persino il ponte sullo stretto, altro che asili, scuole, servizi pubblici. Quindi noi abbiamo questa enorme stila davanti, come ho detto prima però il coraggio non ci manca, magari abbiamo paura, ma il coraggio non ci manca e nemmeno l'intelligenza, quindi questo dobbiamo affrontare nei prossimi mesi con molta forza, molta determinazione. Eliana vorrei puntualizzare un frammento di discorso che ho colto nella tua risposta che riguarda il telelavoro, il telelavoro che come ci ha detto adesso nella fase della ripartenza il padronato è già sul piede di guerra e sembra che l'uso dello smart working, chiamato così, non so perché dovrebbe essere intelligente questo lavoro. L'uso dello smart working, il padronato minaccia di estenderlo soprattutto in certi settori. Tu come vedi le conseguenze di questo strumento di flessibilità sulle condizioni materiali delle lavoratrici, ma direi di tutta la classe lavoratrice? Allora guardate, anche qui come con le riunioni da remoto, abbiamo fatto di necessità virtù e va bene, ma il rischio adesso è enorme, nel senso a marzo e aprile chi lavorava ai smart working oggettivamente penso che abbia vissuto una condizione meno feroce di chi era costretto ad andare al lavoro senza i mezzi di protezione individuale, prendere i mezzi pubblici, o chi doveva andare al lavoro non sapeva a chi lasciare i figli, o peggio a chi non aveva nessun reddito, o stava in cassa integrazione, tra l'altro chi era in cassa interroga in alcune regioni come quella in cui vivo io, la Lombardia non ha ancora visto un centesimo. Quindi ovviamente lo smart working che è stata di necessità virtù nell'emergenza è stata una condizione meno feroce di altre. Ma mi raccomando perché noi lo sapevamo fin dall'inizio, che adesso a questo punto però abbiamo un problema. Abbiamo un problema perché c'è qualcuno che pensa che lo smart working possa diventare un'abitudine e soprattutto possa diventare un'abitudine per la conciliazione. Quindi di nuovo tutto il problema si riscarica sulle donne. E' certo perché, come dire, le aziende hanno scoperto che lo smart working gli conviene. Certo, adesso per dirla banale hanno risparmiato persino sui ticket della Benza, proprio per capirci. Allora guardate, se gli è convenuto alle imprese, viva Dio certo perché nell'emergenza hanno scaricato tutto quanto addosso a noi, ma compresi i costi di connessione, i costi della luce, chissà quanto risparmieranno sui costi di aria condizionata o d'inverno, i costi di riscaldamento. Ma certo che gli è convenuto. Pensa appunto adesso, ma pure sulla strumentazione, il computer. Cioè non è che in molte aziende non t'hanno nemmeno dato il computer, te la dovevi cavare con quello che avevi dentro casa. Magari eri in due a lavorare dentro casa, in più con i figli che dovevano fare la didattica a distanza. Allora guardate, io voglio dire una cosa, chiamiamolo con il nome giusto, che non è smart working, ok? E non è nemmeno telelavoro, attenzione, è nella migliore delle ipotesi telelavoro senza nessuna delle regole che il telelavoro prevedeva e le prevedeva sia tramite la contrattazione nazionale, ma anche un'importante contrattazione aziendale, almeno in alcune aziende, soprattutto quelle dell'informatica, dei servizi, delle banche, eccetera, eccetera. Lo smart working è stato telelavoro senza nessuna regola, nessuna e senza nessun diritto agli orari, alle pause. Anche il telelavoro lasciava i risolti dei problemi, come per esempio l'isolamento sociale. Ma qui praticamente in buona sostanza, ma quante di voi che sono state in smart working hanno lavorato sul tavolo della cucina, per capirci? Altro che allestire una postazione di lavoro. Allora nella migliore delle ipotesi è stato telelavoro senza nessuna regola, senza quei lacci e lazzuoli, dicevano le imprese per i quali non volevano il telelavoro, perché gli costava, certo, come dire, perché c'erano delle norme, per avalto previste anche dalla legge, non solo dalla contrattazione. La prima legge europea fu quella sul telelavoro, ma nella peggiore delle ipotesi è stato lavoro a domicilio, cioè quello, come dire, più tradizionale, quello meno tutelato possibile, appunto senza regole, senza orari, altro che diritto alla disconnessione, senza spazi, ripeto, di chi lavorava sul tavolo della cucina mentre aiutava i figli a fare la didattica a distanza. Allora, questo è chiaro, questa è stata l'emergenza e l'emergenza si è scaricata su di noi, di nuovo, soprattutto sulle donne. Non è conciliazione, è nell'emergenza aver fatto quello che si poteva. La conciliazione è un'altra cosa, ammesso e non concesso che la conciliazione riguardi soltanto le donne. E certo, siamo di fronte a un tema, cioè che le imprese ci hanno provato gusto. Allora dico che la sfida che abbiamo davanti è farglielo togliere questo gusto che hanno trovato le aziende. E come si fa? Prima di tutto da reintrodurre le norme che erano già previste per il telelavoro. Perché vedi che se le aziende devono iniziare a pagare l'installazione, gli spazi, l'ufficio, la luce, eccetera, 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 insomma il ticket e via dicendo, forse gli conviene un pochino di meno, ok? Certo che adesso gli è convenuto, hanno fatto il far west, quello che volevano. Allora noi dobbiamo sicuramente, attraverso la contrattazione, ma anche prevedendo com'era il telelavoro, quelle norme di legge che esistono, esistono già, non è che bisogna inventarsene. Per questo dico, chiamiamolo con il loro nome le cose, perché appunto abbiamo un sistema di normative, solo che questo sistema di normative in questo periodo non è stato in nessun modo rispettato. Poi al limite affrontiamo gli altri problemi, l'isolamento sociale, eccetera, eccetera. E vi dico una cosa, e con questo piudo. Sento dire anche da molti che però è un'innovazione, è una sfida, lo smart working perché riduce l'inquinamento. Certo, sicuramente riduce il traffico, ecco, però ci tengo a dire una cosa, siccome noi ci siamo sempre dette, orgogliosamente, femministe certo, ma anche ecologiste, allora io però voglio dire una cosa, l'inquinamento si riduce ripensando il modello di sviluppo, investendo sulla mobilità pubblica, sulle energie rinnovabili, perché io davvero mi rifiuto di pensare che l'inquinamento si riduce ricacciando le donne dentro casa, come in tanti non vedono l'ora di fare. Quindi lo smart working bisogna, come dire, riduce l'inquinamento, sì, ma io dentro casa non ci voglio ritornare. E bisogna quindi che su questo lanciamo una grande campagna, anche in questo caso politica, culturale di contrattazione, naturalmente, soprattutto per noi sindacaliste. Grazie. Grazie a te Eliana, ci hai indicato dei terreni di battaglia fondamentali, per cui assolutamente dobbiamo andare avanti. Purtroppo il tempo è tiranno, allora io chiamo Maria Giuseppina Itzo, che ci parlerà di un particolare settore di lavoro che ha utilizzato il telelavoro, che è l'insegnamento. Maria Giuseppina Itzo è un'insegnante che lavora in un liceo di Napoli. Ciao Maria, allora ti chiedo subito, con il distanziamento sociale e le condizioni dell'insegnamento sono state riorganizzate con il telelavoro, come dicevamo prima, allora ci puoi dire, secondo la tua esperienza, come si è trasformata la giornata lavorativa degli insegnanti e quindi di conseguenza quali problemi le donne hanno dovuto affrontare? Allora, ciao a tutti e tutti, vabbè ringrazio anch'io per la possibilità che abbiamo stasera di discutere e condividere esperienze da diversi punti di vista. Allora, nello specifico alla domanda che Giovanna mi pone e che riguarda appunto la trasformazione della giornata lavorativa, ma io direi non solo della giornata lavorativa, ma anche di tanti altri aspetti connessi appunto al nostro lavoro. I cambiamenti imposti dall'epidemia hanno comportato per quanto riguarda la scuola tutta una serie di questioni che hanno portato prima di tutto alla sostituzione della modalità che viene normalmente utilizzata, che è quella della didattica in presenza con la didattica a distanza. La didattica a distanza, insomma, se ne è parlato tanto di didattica a distanza, non voglio ripetere tutta una serie di cose che abbiamo sentito spesso in questo periodo da più fonti e da diverse angolazioni. Riguardo a questa modalità mi faceva piacere soprattutto focalizzare l'attenzione su due aspetti che hanno a che fare anche col tema di questa sera, che è appunto discutere di queste cose dal punto di vista delle donne in particolare. I due aspetti rimandano, secondo me, il primo alle conseguenze positive della didattica a distanza, di cui secondo me si è parlato poco, ma non perché voglia in qualche maniera sponsorizzare questa modalità tutt'altro. Volevo però sottolineare il fatto che in realtà questa modalità ha permesso di mantenere un minimo rispetto a quello che è praticamente il ruolo della scuola e quindi ha permesso di continuare a mantenere la relazione didattica, educativa con gli studenti, alleviando in parte il lavoro delle famiglie, a cui sarebbe stata altrimenti completamente delegata questa funzione. Aspetti negativi di contro ce ne sono stati e ce ne sono diversi. Aspetti negativi che rimandano essenzialmente alla possibilità, e non solo possibilità, essenzialmente è andato più che reale, di andare ad amplificare le disuguaglianze laddove ci sono, perché questa modalità lascia essenzialmente i ragazzi soli, lascia sole le famiglie, lascia sole quindi in particolare le donne, perché sappiamo bene tutti che all'interno delle famiglie, alle donne è assegnato il carico maggiore. Li lascia soli a fronte invece di una scuola che ha con tutti i limiti e con tutte le difficoltà che oggettivamente ci sono nella scuola, però è una scuola che comunque offre pari opportunità a tutti gli studenti e che comunque è un luogo di equità, quindi dove praticamente gli studenti trovano una possibilità che è la stessa per tutti. Quindi diciamo che l'aspetto più negativo della didattica a distanza a mio avviso è rappresentato proprio da questo. Nello specifico le trasformazioni che hanno riguardato la giornata lavorativa, la mia giornata lavorativa, io porto la mia esperienza, sono state tante e in particolare su alcune questioni mi hanno anche indotto a una riflessione attenta su tante questioni che vorrei ora provare anche a discutere con voi. Essenzialmente le questioni più importanti sono una riguarda il carico di lavoro, che è aumentato in maniera abnorme, raddoppiato se non triplicato, senza limiti di orario, con un'invasione del lavoro che praticamente ha riguardato tempo, spazi, quindi assenza anche di una suddivisione tra quello che è il tempo privato e il tempo invece dedicato al lavoro, alla professionalità. Tutto questo a fronte di una grande incertezza nel risultato, perché chi fa questo lavoro sa bene che tutti noi ci ritroviamo soprattutto in questi giorni a dover valutare, laddove la valutazione è un altro grande tema, a dover valutare degli studenti che praticamente andranno ad affrontare il prossimo anno con tutta una serie di questioni risolte. Quindi aumento del carico di lavoro a fronte invece di una grande incertezza dal punto di vista del risultato. Ho sperimentato in questo periodo ancora un peggioramento delle condizioni di democrazia all'interno del mio ambito di lavoro, della scuola, con una diminuzione del grado di autonomia, della libertà di insegnamento, la didattica a distanza riduce di fatto tutta una serie di questioni che per chi fa questo lavoro sono fondamentali. La libertà di insegnamento è il diritto fondamentale degli insegnanti, con un ridimensionamento fortissimo del valore e della funzione degli organi collegiali che oggi sono ridotti quasi ad una farsa e che affronta invece di un aumento del potere decisionale dei dirigenti scolastici che a loro volta dipendono strettamente dalle decisioni impartite dall'alto, cioè dal Ministero e che spesso sono decisioni che vanno a modificare profondamente le condizioni di lavoro dei lavoratori della scuola, tutti, docenti e personale ATA, e personale ATA spesso dimenticato, e che praticamente sono assunte senza nessun confronto. E questo è un dato, io trovo, di tutto questo periodo che abbiamo vissuto, il dato più, che ha avuto un maggiore peso, perché noi tutti, con tutti i limiti, con tutti gli errori che sono stati commessi in questi anni, anche dal sindacato, eravamo abituati al confronto, alla contrattazione, prima Eliana ricordava alcune questioni relative alla conciliazione, c'è, eravamo abituati ad operare secondo una certa logica, questa logica oggi è completamente azzerata, le decisioni vengono prese dall'alto, calate dall'alto e a noi tocca solo assumere praticamente queste decisioni, eseguire compiti, molti colleghi si stanno affannando in questi giorni di scrutini che siamo alle prese con tutta una serie di cose, però insomma il dato di fatto evidente è proprio questo. E l'altro punto importantissimo che ho sperimentato e credo hanno sperimentato con me tante compagne, tante compagne che fanno il mio stesso lavoro, ma non solo, è quello relativo all'appunto che cosa significa per le donne vivere nello stesso spazio la vita professionale e la vita familiare e quanto la questione di genere sia una questione rilevante anche in periodi e in condizioni quali quelli che abbiamo attraversato e che attraversiamo. La casa si è trasformata nel luogo in cui decliniamo qualsiasi aspetto della nostra vita, quindi la casa come luogo dove restare e non come luogo dove ritornare. Prima Eliana diceva io non voglio essere ricacciata a casa, io mi sono sentita ricacciata a casa nonostante, come dire, in qualche maniera mi sentissi anche privilegiata rispetto a tante altre situazioni. Trascorrere il tempo del lavoro, il tempo della cura, il tempo del privato senza la possibilità di staccare per le donne è terribile, può essere veramente un boomerang che ci va a colpire nella parte più esposta, più fragile di noi e che fa praticamente emergere tutto il lavoro sommerso, che è fatto di tutta una serie di cose, è fatto del lavoro domestico, è fatto del lavoro di cura dei figli, che spesso sono anche figli particolari, figli disabili per esempio, è fatto del lavoro di cura di genitori anziani, è fatto del lavoro tutto, che è un lavoro non riconosciuto e in molti casi non condiviso. Quindi la sensazione ultima che un po' riassume, che praticamente tutto quello su cui abbiamo ragionato in questi anni e che abbiamo teorizzato, la conciliazione, il telelavoro, la condivisione di ruoli, sono stati ora messi sul banco di prova, si sono materializzati e ancora una volta però sono venuti alla luce purtroppo i nodi risolti di un mondo sommerso che pesa ancora troppo esclusivamente sulle spalle delle donne a mio avviso. Maria, vorrei cogliere un frammento di quello che hai detto per farti un'altra domanda, io vorrei che puntualizzassi una cosa, il sistema delle lezioni da casa, oltre le insegnanti e gli alunni, ha coinvolto le famiglie e quindi principalmente altre donne, io vorrei chiedere che cosa succederebbe per le famiglie e quindi per le donne se malauguratamente la riapertura dell'anno scolastico si dovesse continuare anche parzialmente con la scuola a distanza, come farebbero molte donne lavoratrici a conciliare con il loro lavoro, con la necessità di rimanere a casa, soprattutto se i figli sono piccoli, per sostenerli durante durante la lezione a distanza, come si troverebbero ad affrontare questo problema? Sarebbero travolte anche loro in questo turbine sciagurato? Allora sì, sicuramente sarebbero travolte, in molti casi, lo ricordava anche Liana prima, sarebbero le prime ad essere sacrificate sull'altare di un'eventuale rinuncia, quindi le lavoratrici soprattutto precarie, quelle come sempre ancora più deboli all'interno di una fascia che di per sé è la più debole. Sicuramente questa cosa si realizzerà, nel senso che il modello proposto per la riapertura a settembre riguardo alla scuola, anche se si è passati proprio nelle ultime ore da un iniziale modello di scuola ibrida, come l'ha definita la nostra ministra, che prevedeva praticamente metà tempo a scuola, metà tempo a casa, quindi metà di didattica in presenza e metà a distanza, ora praticamente si è passati ad un modello che va nel tre quarti a scuola e un quarto a casa, laddove però poi il tempo passato a scuola sarà un tempo ridotto perché l'ora di lezione sarà ridotta da 60 minuti a 45 minuti, quindi il tempo a scuola si ridurrà inevitabilmente. Quindi questo significa che praticamente ci sarà uno spostamento rispetto a un modello che rimanda alle strutture familiari e ai contesti relazionali e sociali una incidenza maggiore, quindi sicuramente una scuola più disuguale rispetto a quella attuale, ma sicuramente una scuola in cui le famiglie avranno un peso maggiore e laddove struttura familiare vuol dire soprattutto donne, sarà appunto alle donne ancora una volta demandata la cura, il lavoro di cura che normalmente è affidato alla scuola, che è un lavoro di cura particolare perché è un lavoro di cura che richiede come dire una competenza come tutti i lavori e quindi è un lavoro delicato e particolare che ancora una volta andrà praticamente a riguardare le donne e che quindi praticamente ancora una volta il prezzo maggiore lo pagheranno le donne. Una cosa volevo dire a proposito sempre di alcune situazioni particolari perché è una cosa che mi sta particolarmente a cuore, sempre perché in questo discorso che sembra un po' un discorso che richiama un effetto domino, i pezzi che si strettamente connessi l'uno con l'altro, i più deboli praticamente sono quelli maggiormente toccati, le famiglie dove ci sono alunni disabili o alunni con bisogni particolari, quelli che noi chiamiamo comunemente BES, saranno in questo caso quelle più toccate perché verrà meno un pezzo importante rappresentato dall'insegnante di sostegno che è una figura importantissima che appunto supporta e sostiene le famiglie che hanno questo tipo di problematica. Quindi ripeto, io credo che il prezzo lo pagheranno le famiglie e come sempre lo pagheranno soprattutto le donne. Va bene, grazie Maria, veramente un coacervo di problemi su cui dovremo anche ritornare in un altro contesto. Adesso parliamo di lavoro precario e chiamiamo in causa Elena Majorana. Elena è una militante di sinistra anticapitalista di Catania, da anni fa volontariato in un quartiere popolare della sua città dove c'è un'area molto vasta di popolazione a rischio di povertà e di esclusione sociale. Elena conosce quindi direttamente la situazione delle donne che soprattutto nel mezzogiorno fanno lavori precari o saltuari o meglio li facevano prima della pandemia perché appunto adesso molte di queste attività sono praticamente scomparse. Elena buonasera, volevo domandarti se ci puoi descrivere gli aspetti essenziali del mondo del lavoro sommerso o precario delle donne nel suo paese in generale nel mezzogiorno e come ha inciso la pandemia su questa realtà? Buonasera a tutte e tutti innanzitutto, sì dunque nelle città del sud si vive una condizione particolare perché Eliana ci ha parlato delle difficoltà del lavoro però comunque riferito a dei lavori che sono che sono strutturati che quindi hanno anche dei diritti e delle modalità scritte su come svolgerli. Qui noi abbiamo una situazione in cui anche intere una buona parte della fascia della popolazione vive di lavori molto precari, informali, lavoretti, di un arrangiarsi quotidianamente. Questo riguarda sia le donne che gli uomini perché si tratta di lavori per esempio di piccoli commerci, di riciclo, non so, tanti che girano e ti vendono le calze o le stoffe per pulire o altre cose del genere, o moltissimi uomini soprattutto che girano per raccogliere rottami di metalli da poi rivendere e con cui guadagnare, riuscire almeno a fare la giornata. Per quanto riguarda le donne ovviamente loro sono soprattutto impiegate nei lavori di cura, quindi pulizie in casa, pulizie condominali, pulizie di uffici, cura di anziani o di bambini. Chiaramente in questo normalmente la maggior parte lavorano in nero, quindi ricattabili, possono essere licenziate da un momento all'altro. La pandemia le ha letteralmente lasciate da un giorno all'altro senza alcuna fonte di sostentamento, perché chiaramente molte donne presso cui lavoravano sono rimaste ovviamente a casa per lockdown. E' subentrata anche la paura a far entrare magari persone di cui non si sa bene come vivono normalmente, che in contesti di promiscuità stanno. Io so di persone che magari hanno continuato ad utilizzare la donna di servizio, però per farsi portare la spesa e farsela lasciare fuori dalla porta, a cui lasciavano anche senza fare entrare nessuno. Quindi situazioni estremamente anche umilianti di modalità di lavoro. Però moltissime proprio si sono trovate da un giorno all'altro senza avere affidate letteralmente alla carità privata o pubblica nelle forme che prevì. Quindi nei quartieri popolari, credo io, sono andata diverse volte e si sentì questa disperazione, questa, sì, proprio era palpabile. Ovviamente non si tratta, tutte queste donne spesso vivono in case molto piccole, con molti figli, quindi con quelle situazioni di spazio ridottissime e sempre più esposte appunto alla violenza domestica. La pandemia è intervenuta su una normalità che ha molto poco di normalità e che bisogna con forza dire che non si può tornare a quella normalità. Bisogna per questo chiedere e impegnarsi in una campagna perché venga ripristinato un welfare universale a cui tutti possono accedere. soltanto ricostruire i servizi pubblici, la scuola, la sanità può riuscire a dare a queste donne quella dimensione di dignità con cui si può riprendere la propria vita in mano. Inoltre bisogna denunciare con forza che le, appunto, come diceva Eliana, il governo si è impegnato nel soccorrere soprattutto le aziende, soprattutto le grandi aziende, per aiutare le persone a sopravvivere in questo periodo di pandemia ed affrontare le conseguenze dopo la pandemia che ce le riporteremo per tantissimo tempo perché non è che adesso perché c'è la fase 2 si sono risolti i problemi, ci sono ancora donne e uomini che non sanno come quotidianamente riuscire a fare pranzo e cena. Sono state date delle briciole e sono state date proprio nella forma dell'elemosina e questa è una cosa che bisogna denunciare, su cui bisogna impegnarsi anche in campagne di lotta di quanto più unitarie possibili perché venga ripristinato appunto il diritto alla dignità, il diritto ad avere un reddito. Quello che è stato fatto fino adesso sono state tanti provvedimenti, spesso in contraddizione, per giunta poi declinati da ogni regione, da ogni comune in un modo diverso, per cui il buono pasto viene dato da alcuni in un modo e da alcuni in un altro, molto spesso si può accedere a questi servizi sempre online, non si sa bene a quale file, a quali uffici rivolgersi. E quindi è proprio un'elemosina, io non so in che altro modo si possa definire. E questo qui ovviamente come forza di sinistra, soprattutto se come noi si definiscono anticapitaliste, bisogna veramente impegnarsi in campagne che riescano a riportare al centro la dignità e i diritti per tutti. Hai ragione Elena, questa decisione del governo di inviare aiuti monetari alle famiglie, oltre a essere molto meno di quelli che stanno concedendo all'industria, sembrano pensati più per contenere la dimensione del disastro economico e scongiurare possibili rivolte che risolvere realmente i problemi. Questo è un enorme terreno di battaglia per noi. Restiamo un momento nel mezzogiorno. C'è un lavoro importante nelle regioni meridionali, un lavoro stagionale che è l'agricoltura. Se possiamo fare un flash, perché il tempo corre, un flash sull'agricoltura che in gran parte è svolto da immigrati e immigrate. Qui allo sfruttamento e il razzismo che i braccianti subiscono, si aggiungono anche le molestie sessuali per le donne. Quello che mi colpisce è che di questo non si parla, è come se fossero invisibili le donne braccianti con i loro problemi specifici. Nessuno parla delle donne immigrate in agricoltura e dei problemi che hanno, anche ad occuparsi dei loro figli. Possiamo parlarne noi questa sera un momento? Sì, certo. La situazione delle migranti, ma non solo, perché spesso situazioni molto difficili capitano anche alle braccianti italiane, è molto grave. Noi abbiamo avuto diversi casi, portati poi alla ribalta della cronaca, soprattutto nella zona dell'agricoltura, diciamo più di qualità, più di quella della fascia, della zona di Ragusa, una parte di Siracusa, fino a Gela, in cui le migranti vivono, cioè non tanto in situazioni di grossi campi o baraccopoli, ma invece lavorano, direttamente vivono nelle aziende agricole, spesso in case ovviamente, che sono vecchi magazzini riattati, più o meno, ma molto fatiscenti, e in queste situazioni isolate vivono nuclei familiari, spesso donne con figli e figlie, e quindi sono in una situazione di isolamento, in cui non hanno, lavorano tantissime al giorno, vengono pagate molto poco, e sono per giunta costrette a subire anche molestie, e addirittura proprio veri casi di prostituzione. Spesso le cronache dei giornali ci hanno parlato di festini a luce rosse, organizzate in mezzo ai teloni delle serre, per esempio del Vittoriese, e nel dicembre del 2019 si è per esempio arrivati a una condanna di una organizzazione criminale rumena, sono stati condannati per, e le condanne sono state per traffico di esseri umani, finalizzato sia allo sfruttamento lavorativo che allo sfruttamento sessuale. Ora ovviamente questa è stata la prima condanna che c'è stata di questo tipo in Italia, il fatto che i condannati siano solo rumeni non ci deve fare stare tranquilli, perché ovviamente poi ci sono tutti i datori di lavoro che usano queste organizzazioni per trovare i braccianti che servono per produrre la frutta, gli ortaggi, parliamo, per esempio Vittoria è uno dei più grossi mercati, zone di produzione di prodotti, di ortaggi pregiati che vanno in tutta Europa, e che sono spesso poi questi datori di lavoro ovviamente i molestatori insieme ai caporali. Ovviamente le donne si trovano in una situazione di assoluto ricatto, perché chiaramente denunciare è difficile, denunciare è difficile perché c'è una levata di scudi da parte della società che si sente chiamata in causa e che pensa di essere denigrata, se si dice che in una zona ricca e che fa produzione di pregio poi ci sono le cose, avvengono queste cose, ed è uno, e poi perché nel momento in cui denunci anche questo lavoro che comunque per moltissime chiaramente l'unico modo di sostentamento e l'unico lavoro possibile significa non essere più chiamate a lavorare, significa quindi essere ulteriormente emarginate. Le situazioni, tra l'altro l'isolamento di queste donne, proprio perché vivono direttamente in campagna, implica un enorme carico anche per quanto riguarda la cura dei figli, che comunque molto spesso sono anche poi indotti a lavorare in queste aziende. Ci sono casi di bambine e bambini di poco più di dieci anni che in qualche modo lavorano e quindi uno sfruttamento di lavoro mille a mille è molto grave. Hanno un'enorme difficoltà proprio anche a fare le cose qualsiasi della vita quotidiana, come la spesa, perché si trovano lontano dai centri abitati, lontano dai supermercati, per cui sono ulteriormente umiliate perché devono chiedere o al padrone o al caporale che se va bene si fanno magari pagare o gli tolgono qualche altra cosa, se va male invece ti chiedono in compenso qualche prestazione sessuale extra. Oppure si è creato, c'è nata una nuova figura di lavoro, cioè ci sono delle persone che possono essere o rumeni o immigrati oppure italiani, che portano a domicilio presso le aziende la spesa a queste donne, ovviamente con prezzi elevatissimi. L'altro aspetto di questa forma di isolamento è l'assoluta assenza di assistenza sanitaria. Infatti perché sono lontane, perché non possono allontanarsi dal lavoro per plecarsi in ospedale e appunto ci sono donne che magari sono in stato di gravidanza che fino all'ottavo mese non vedono un medico, non sono visitate, non sanno… Quindi questo è un altro aspetto molto grave. Chi sono le strutture che danno un aiuto, un sostegno, solidarietà? Innanzitutto c'è la Caritas e qui dobbiamo tutti noi appunto porci un problema insomma perché sulla assenza. Poi per esempio nella zona di Vittoria Emergency ha istituito una unità di strada che è un pulmino attrezzato per le cure sanitarie che gira e porta sul luogo direttamente alle donne un minimo di assistenza sanitaria. La Caritas appunto, mi riferisco sempre alla zona di Vittoria, ha un centro in cui dà sia assistenza sanitaria ma anche assistenza legale. Un grosso lavoro stanno facendo i compagni e le compagne dell'USB con una forma di sindacalismo di strada che hanno appunto fatto tante denunce e cercano di portare al centro della scena questo problema perché appunto è importante che intanto si cominci a nominare il problema a dire le cose come stanno però su questo siamo tutte e tutti chiamati a un lavoro di anche qui innanzitutto una campagna per chiedere politica per chiedere la regolarizzazione di tutte e di tutti perché quello che è stato fatto la ministra può anche mettersi a piangere però dovrebbe piangere di vergogna soprattutto perché la regolarizzazione che è stata proposta è assolutamente ridicola e umiliante non tiene in nessun modo conto della dignità e dei diritti delle persone quindi questa è una cosa che ci chiama tutti in causa grazie Elana effettivamente è così il nostro tempo volge al termine ma prima delle conclusioni è arrivata una domanda a proposito delle docenti e quindi del telelavoro e di ciò che sta succedendo nelle scuole dice Marina Cravero ci sono proposte da parte dei docenti quale le scelte più adatte si riferisce evidentemente a proposto eventuali tentativi di organizzazione per una risposta di lotta a questa situazione allora io do ma molto brevemente la parola a Maria la proposta perché io credo che sia una proposta unica una proposta che a mio parere assimila anche la scuola alla sanità la proposta riguarda una dose massiccia di investimenti da operare riguardo alle infrastrutture con l'obiettivo di sanare tutta una serie di problematiche esistenti e adeguare gli edifici scolastici che sono nella maggior parte dei casi inadeguati penso per esempio a tutti gli edifici che nascono non come scuole gli edifici storici io insegno in un edificio storico bellissimo dal punto di vista dell'architettura poco funzionale dal punto di vista dell'utilizzo che ne facciamo l'altro grande investimento dovrebbe riguardare gli organici che fanno riferimento ai docenti e al personale ATA con un'assunzione diretta dei precari almeno di quelli che hanno maturato tre anni e con procedure concorsuali più snelle perché le procedure concorsuali che sono state messe in atto negli ultimi anni sono assurde sono assurde tutte quelle che hanno a che fare con il reclutamento del personale della pubblica amministrazione quindi snellire per come dire assumere personale in maniera tale da risolvere delle questioni che hanno a che fare con l'emergenza ma non solo la questione delle classi pollaio le classi che praticamente hanno un numero di alunni superiore alla norma o a quella che dovrebbe essere alla norma era già un problema che ora praticamente è diventato più urgente con l'emergenza quindi investimenti finalizzati a ritornare ad avere una scuola in presenza in cui ci siano però più spazi e quindi un numero di classi maggiori che significa anche poter lavorare con una maggiore tranquillità e poter avere anche una cura maggiore dei minori che sono affidati alla scuola e degli spazi adeguati con una tutela però della salute dei lavoratori di tutti e di tutti quelli che operano nella scuola grazie Maria io vorrei comunque ricordare che c'è uno sciopero della scuola indetta per lunedì l'8 giugno e credo che le cose che diceva Maria sono appunto al centro delle richieste diciamo di questo di questo sciopero il garante aveva tentato di farlo revocare ma per ora almeno è stato confermato dunque il primo passaggio diciamo di lotta questo sciopero della scuola per l'8 giugno bene noi abbiamo consumato il tempo a disposizione e quindi mi resta veramente pochissimo tempo per le conclusioni come si usa fare al termine di un discorso come questo ora non sono facili le conclusioni perché sono stati posti temi molto importanti anche se trattati in pochissimo tempo io penso che tutti dovrebbero essere ripresi ed approfonditi penso che dobbiamo assumere l'impegno di tornare nuovamente a discutere in diretta sui diversi problemi magari centrando ne uno per vostra ascoltando diversi interventi mi è sembrato evidente che la classe dirigente sta approfittando della crisi sanitaria per ricreare le migliori condizioni economico sociali di cui ha bisogno per superare una vasta crisi economica che non è stata provocata dal coronavirus che era già in itinere prima e la subordinazione delle donne è così straordinariamente totale è funzionale ad un progetto complessivo di riordine della società dove ciascuno deve stare al suo posto per non infastidire la prosecuzione tranquilla della produzione dei profitti come mi sembra Melenza irreazionaria la propaganda martellante di questi mesi che dice uniti ce la faremo ma quale unità ci può essere tra chi subisce violenza e il suo aguzzino diceva Valentina una violenza che appartiene ad un ordine sociale fondato sulla gerarchia di ruoli e di poteri privato come sociale e hanno detto le altre compagne quale unità può esserci tra chi lavora e chi intasca profitti sfruttando questo lavoro noi l'unità vogliamo farla con le donne che subiscono questa realtà e con tutti gli sfruttati e gli oppressi penso anche agli studenti nell'immediato che non vogliono rinunciare ad avere una relazione formativa in classe alle madri e a volte ai padri che non vogliono e non possono sopprire le carenze della scuola da casa ai lavoratori che sono coinvolti in questi progetti nel percorso specifico che ci riguarda come donne come compagne ci impegniamo a sostenere e rafforzare le resistenze collettive le forme di mobilitazione delle donne che stanno emergendo ci sono segnali diciamo un po' dappertutto non solo in Italia che sono centrali per rilanciare la nostra iniziativa futura vorrei cogliere l'occasione per ribadire anche la validità dello sciopero femminista internazionale dell'8 marzo se le nostre vite non valgono ci fermiamo dice lo slogan è un auspicio di lotta che quest'anno con il pretesto della pandemia ci è stato impedito ma che certo riprenderemo questo è un impegno chi vuole prendere contatto con noi può scriverci sul sito di Sinistra Anticapitalista c'è una pagina per i contatti dove si trovano i nomi e gli indirizzi mail delle persone di riferimento a livello sia nazionale che regionale adesso non mi resta che ringraziare tutte e tutti della partecipazione e vi auguro un buon proseguimento di serata grazie a tutti